Colori spray pastello e perlato Agitare energicamente i colori spray prima dell'uso per almeno 10 secondi. Utilizzando la pratica pistola, procedere alla colorazione superficiale della frolla montata, spruzzando i colori da una distanza di almeno 20-30 cm. La vasta gamma di colori spray permette di rendere unici, con estrema rapidità, anche dei semplici biscotti.